Ormai è parecchio tempo che me lo chiedo, Minecraft, perché non aggiungi delle nuove strutture sul gioco? Oggi proverò a farvi delle proposte io, dalla più bella alla più bella, perché sono tutte bellissime! La prima nuova struttura che andremo a vedere è la casa abbandonata. Si presenta in questa maniera, una casa fatta un po' in stile, devo dire, steampunk, quasi quasi nello stile in cui faccio io le costruzioni nella mia vanilla personale. Mi piace veramente parecchio, potrebbe essere carina come struttura da far spawnare proprio nelle pianure o nelle mido, quindi nelle colline rialzate. Che cosa si trova all'interno? Ci sono un sacco di spawner che vi possono essere utili per fare magari delle farm, e all'interno delle chest abbiamo delle zone, le zone delle forge con abbastanza minerali, la zona dove ci sono dei materiali preziosi e del cibo, e al piano di sopra troviamo altre chest. Io, essendo che ho delle mod installate, troverò all'interno anche degli oggetti della mod, esempio questo qui che è il crafting blueprint. Comunque tutto quello che si trova è abbastanza essenziale, non ci sono diamanti e non ci sono cose esagerate, ma devo dirvi la verità che avere due spawner vicini potrebbe essere interessante per fare una farm magari più sostanziosa. Questa seconda struttura ve la devo mostrare in modalità spettatore. L'ingresso di questa miniera abbandonata si trova all'interno di una miniera che appunto spona un po' stile mineshaft, come ben vedete siamo mineshaft un pochettino fatto meglio. L'ingresso vero e proprio è una voragine che vi porta giù, e quello che potrete trovare all'interno di questa struttura è davvero interessante, perché troviamo innanzitutto veramente tanti spawner, ma troviamo anche tante zone carine. Qua c'è un portale semi abbandonato con un blocco d'oro. Trovate delle chest, delle miniere, quelle classiche, in questo caso come vi dicevo prima, avendo un pacchetto moddato, mi fa vedere anche delle cose moddate, anche perché questa è una mod vera e propria, quindi è preso proprio una mod vera e propria per farvi vedere delle nuove strutture carine. Possono spawnare anche dei nuovi mob, e questo dovrebbe essere un goal a tutti gli effetti. C'è una zona con un sacco di minerali e tanti barrel con del cibo dentro, e poi troverete una chest della miniera fatta in questa maniera qua, piena di roba. In questo caso qua ci sono nove diamanti, una spada in ferro, un blocco di copre e tante altre cose. Ma non finisce qua perché all'interno di questa miniera c'è questa zona qua con sempre delle altre cose, sempre della mod, ma anche una lodestone, che non è male ragazzi, considerate che si fa chiaramente con la nederite, quindi tanta roba. Poi ovviamente raga è super piena di chest da esplorare, qua c'è altro diamante, ci sono un sacco di cose molto interessanti, e poi la cosa bella è che si dirama in tante altre zone, per esempio questa zona qui è la zona dei tre spawner, dove c'è sempre una chest, e vi porto in un'altra piccola stanzetta con della TNT. Comunque ve la farò esplorare da soli, trovate comunque il link di questa mod nella descrizione. Spesso mi chiedo, ma la struttura di Minecraft del portale abbandonato, ma se fosse migliorata, molto più grande, molto più particolare? Beh questo è il caso di questa terza struttura, perché qua stiamo parlando di un portale antico, non un portale abbandonato, strutturato proprio come se fosse una struttura vera e propria, e con dei mob che spawnano. In questo caso abbiamo sempre un wraith, non un goal come dicevo prima. All'interno potete trovare anche delle chest, che si trovano in questi antri piccolini, con sempre degli spawner, perché quelli sono immancabili. Anche da quest'altra parte c'è un'altra stradina, con un'altra chest, che vi dà in questo caso polvere di ossidiana, e una mela d'oro. E in realtà non c'è nient'altro ragazzi, di chest vera e propria. Sarebbe stato carino che questa mod, aggiungese sì questa struttura, ma mi sarebbe piaciuto, che ci fosse magari un ingresso vera e propria, per un'altra dimensione, che Minecraft, secondo me, in questo caso, dovrebbe tentare di aggiungere. E poi si spawnano anche queste cose qui, che sono delle tartarughe strane. Vabbè, poi quello sarà un altro video. Questa struttura si chiama Dimora del Mago Farmacista, e devo dirvi che è veramente bella, perché, come ben sapete, io amo lo stile fantasy, e una struttura fantasy su Minecraft non è mai stata aggiunta. Vedere questi blocchi nuovi, nello stile viola, mi piace veramente tanto. E che cosa si trova all'interno di questa casa fantasy in realtà? Eh, raga, si trova tanta roba. Si parte dall'esterno con dei barrel che possono avere dei blocchi custom di un fungo che verrà aggiunto, e all'ingresso troverete dell'illusioner. Questi mob qui, come ben sapete, ci sono su Minecraft, ma non sono mai stati implementati per davvero, quindi non possono realmente spawnare. Quello che trovate all'interno, chiaramente, è sempre un buon loot, ma se andate però al secondo piano, agibile da questa zona qua, troverete delle altre cose. In questo caso, qua ci sono dei blocchi aggiuntivi che sono molto interessanti per i liquidi, ma queste cose non le vedremo oggi, perché secondo me non ha senso. Ma immaginatevi nella mia Steamcraft, serie vanilla fatta in stile, appunto, Steampan, con questi tubi veramente incredibili. Secondo me, veramente tanta roba. Mi piace tantissimo questa nuova struttura. Se invece, dal piano di sotto, andate da questa parte qui, potete andare nell'ultimo piano della torre. E qui potete trovare, intanto, una cosa che non so come si chiama, un bellows, e trovate una chest con tanti libri. Qua dovreste trovare i libri, quelli con protezioni alte, quindi tanta tanta roba. Mi sarebbe piaciuto dare un voto a tutte le strutture, ma questa per adesso vince veramente il premio come struttura più bella, perché spona nella giungla, e nella giungla noi abbiamo solo quel tempiettino che comunque è vecchio, raga, e non c'è niente di nuovo. Per questa nuova struttura, il mio caro amico Loco sarebbe davvero molto contento, perché parliamo di un bazar nel deserto, una nuova struttura che spona proprio nei deserti ampi, e come funziona? Beh, funziona allo stesso modo di quello che Loco ha costruito nella Big Vanilla 2, ovvero una zona di mercato dove si trovano all'interno dei villager con parecchie cose nelle ceste, in questo caso si trovano degli nugget of experience, che sono delle cose che ti danno esperienza, e ci sono veramente tante tante ceste. I materiali non sono preziosi, ma si possono trovare tante e-bail, tanti animali, in questo caso sono sponati dei lama, fuori ci sono delle zone verdi, io trovo che sia veramente molto interessante questa cosa, soprattutto perché nel deserto, a parte il tempio, non è che si possa fare molto, e trovarsi una struttura di questo tipo a me piacerebbe tantissimo, e fatemi sapere sotto nei commenti quale struttura aggiungereste voi nel deserto, porca paletta, sarebbe bellissima una cosa del genere, soprattutto per il fatto che ci sono nuovi blocchi e nuovi item da scoprire. Benvenuti ragazzi nella locanda dell'artiglio dell'orso, una struttura che spona nella mega taiga, io trovo che sia veramente azzeccata come zona, e raga, il nome secondo me dice abbastanza tutto, perché si entra, trovate sempre un sacco di barrel, diciamo che è abbastanza ripetitiva questa cosa di trovare tante cose, tanti barrel, eccetera, eccetera, qua si trovano delle cose che sono sempre della mod, e qui abbiamo un villager che non fa niente, cosa fa il villager, diciamo che è come se fosse un barista, è proprio una locanda a tutti gli effetti, cosa ho trovato all'interno, sempre tante ceste, ma il loot non è particolarmente prezioso, trovo che questa mod qui aggiunga veramente tante cose, molto il sapone, trovo che questa mod aggiunga veramente tante cose piuttosto interessanti, ma alla fine tutte da esplorare, non tanto per avere del loot, quanto per avere delle nuove strutture di Minecraft, essendo una locanda a tutti gli effetti ha anche delle zone per dormire, e potete trovare anche dei villager, è un'uscita da questa parte qua, le chest di loot chiaramente non mancano, ma non è diciamo la cosa principale, è proprio avere una struttura nella megataiga, cosa però interessante è che espone una zona di lato con degli animali nuovi, in questo caso qui abbiamo anche un maialino nero, e da questa parte qui abbiamo degli asini e dei muli, sarebbe veramente interessante se ci potesse essere una struttura con magari anche un boss nella megataiga che possa davvero essere un orso, sarebbe interessante. mi sono sempre chiesto perché le api non siano state sviluppate in maniera un pochettino più approfondita e questa nuova struttura chiamata casa dell'apicoltore diciamo fa proprio questa roba qua perché è proprio una casa di un apicoltore a tutti gli effetti infatti se entriamo abbiamo questi villager in teoria dovrebbe esserci una mod che aggiunta fa il lavoro dell'apicoltore ai villager aggiunge questo nuovo lavoro ed è interessante quello che potete trovare all'interno chiaramente è tutto inerente o a materiali non preziosi o alle api potete trovare tanta cera e tante cose di questo tipo qui c'è un toolbox guarda che bello come si apre raga veramente interessante dove all'interno ci sono delle cose molto basi però trovo che sia carino perché vedete questa animazione qua sembra quasi una valigetta che si apre non finisce qui perché abbiamo anche la casa proprio delle api infatti qua spawnano un sacco di api e qua c'è una sorta di piccola farm semi-automatica di miele dovete poi completarla voi tramite delle cose ma il fatto che ci siano dell'ingranaggio tutte queste cose qua lo reputo veramente bello peraltro questa mod qui aggiunge anche i legni di azalea che non sono più di oak ma sono una cosa completamente a parte vedete qua se io faccio girare tutta questa roba qua tu se hai un hopper lì sotto ti toglie il miele e praticamente rendi semi-automatico tutto il processo questa mod aggiunge una nuova struttura che può sponare all'interno della pianura ed è semplicemente un villaggettino di mattoni potete trovare all'interno un mulino funzionante che fa sponare anche ma dai funziona così dentro avete quindi uno spawner di zombie e da questa parte qua c'è la casa proprio di mattoni veri e propri cosa si trova all'interno sempre le solite cose ragazzi questa mod qui non aggiunge troppe ceste diciamo preziose perché penso che sia più una cosa visiva piuttosto che il resto in realtà un bel power 3 qua dentro ce lo siamo trovati quindi rimangio quello che ho detto per chi se lo stesse chiedendo che mod è quella che aggiunge tutti gli ingranaggi e quelle cose belle è chiaramente la crate mod che con questa mod qua si integra veramente molto bene continuiamo con il castello raga oh io voglio davvero una struttura a forma di castello su minecraft ma perché non la mettono è bellissima come idea trovo che sia eccezionale un piccolo castello che può spawnare un po' ovunque con un sacco di spawner sicuramente questo qui l'abbiamo già visto in qualsiasi mod perché abbiamo giocato perché l'abbiamo già vista chiaramente questa cosa in questo castello si possono trovare sia i villager sia degli spawner di mob in questo caso si trovano più che altro quelli di zombie trovate anche un chierico degli alchimisti in giro e ci sono anche dei villager che sono chiusi già pronti per fare diciamo mi fa morire questa cosa a parte che qua apre tutto ragazzi guardate che bello cioè la crate mod è veramente incredibile dicevo dei villager già pronti con il loro lavoro come loot in questo caso si possono trovare delle ceste all'interno con tanti materiali prezzuli tra diamanti smeraldi redstone e lapislazzuli mi piacerebbe però magari un castello un pochettino più grande non lo disprezzerei qualche anno fa si vociferava che minecraft avrebbe aggiunto delle fattorie in gioco come strutture vere e proprie questo però non è stato fatto ma questa mod aggiunge una vera e propria fattoria abbandonata in questo caso nel quale si possono trovare i zombie cavalli cavalli zombie che su minecraft come ben sapete se non con la creativa non possono spawnare trovo che sia un'idea interessantissima perché i cavalli zombie io trovo che siano un animale molto carino da avere come collezione ma il fatto che si possono avere solo in creativa secondo me fa perdere un po' quella magia che ha questo mob cosa si può trovare all'interno solite cose tante chest tanto loot tanti spawner per diciamo magari creare una mob farm anche in questa zona si trova tantissimo cibo raga tantissimo cibo e giù c'è una chest con dei minerali preziosi questa qui penso sia una delle mie preferite soprattutto per quell'individuo lì che io vorrei avere all'interno della mia vanilla ma non posso se non con i comandi dietro di me c'è una ferrovia ma non è quello di cui voglio parlarvi perché questo si tratta della crate mod voglio parlarvi assolutamente ragazzi del villager pescatore ma vi siete mai resi conto che è un lavoro interessantissimo a livello di minecraft che vi può dare delle cose piuttosto interessanti però non c'è una struttura vera e propria e in questo caso questa mod qua la aggiunge casa del pescatore cosa aggiunge questa casa del pescatore a parte il fatto della crate mod che io trovo sia eccezionale ma non devo dirvela 150 volte perché la crate mod è la mod di riferimento su queste cose molto belle si può salire al secondo piano e si trovano sempre delle chest in questo caso c'è una chest con una pozione di forza ci sono dei barrel con niente praticamente trovate uno stone cutter che magari a inizio game può essere interessante e sempre qualche materiale prezioso qualche smeraldo qualche pozione qualche libro io prima quando cercavo mentre preparavo il video ho trovato anche dei libri incantati come avete visto qua altri chiaramente me li ha preparati il ragazzo serve quindi non me li sono spoilerate ma questa è una delle mie preferite peccato sempre ragazzi che magari all'interno non ci siano dei villager magari custom magari dei pescatori dei pescherecci delle cose fighissime io vorrei che ci fossero queste cose questa struttura non vi dico neanche che cos'è ve la voglio giusto far vedere perché è incredibile ragazzi allora si parte con un ingresso con due serpenti giganti siamo sempre nel deserto abbiamo un buco qua dentro labyrinth of the serpent se andiamo qua dietro e facciamo questo movimento qua apriamo tutta la zona del labirinto ragazzi si ragazzi questo è un vero e proprio labirinto fatto con gli spawner di ask ora vado direttamente con le f3n perché vi voglio mostrare quanto cavolo è grande è veramente immenso ma si trovano delle zone con per esempio qua c'è l'oro qua c'è una cesta con all'interno tantissimo oro questa è interessante vedete questa struttura qui potrebbe avere veramente tanto senso su minecraft perché può essere quella struttura che vi dà quel qualcosa in più che potrebbe essere carichere vedete magari una zona con le librerie una zona con i diamanti una zona con altre cose bello 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 e poi vabbè ragazzi questo non so neanche io ho la create mod raga io la metterei per tutto perché rende il gioco un altro gioco cioè dai dai piccolo disclaimer ragazzi che non vi ho detto prima ovviamente non si tratta solo di una mod ma di più mod una di queste è la structure che è proprio un addon della create mod per quello trovate tutte le robe integrate non per altro andiamo avanti rovina degli abissi ragazzi una struttura che potete trovare più o meno ovunque può spawnare nelle foreste un po' ovunque ragazzi e trovate praticamente l'ingresso per una mega miniera ragazzi con chiaramente delle ceste sempre vicine con delle robe preziose in questo caso perché prima ho trovato anche i diamanti e se vi buttate giù in questa zona qua troverete una zona tutta buildata bella perché qua si parla di cose belle con dei tough pillar che probabilmente verranno aggiunti nella nuova versione di minecraft e un sacco di stanze nel quale potete trovare delle cose molto carine e soprattutto una marea di spawner io amo gli spawner ragazzi e ditemi quello che volete e immaginatevi di fare un mob spawner con più spawner quanti mob avete cavolo qua abbiamo diamanti sempre nugget of experience sono curioso quanti nugget ci danno qua siamo a 27 livelli cavolo tutti assieme abbiamo andato un livello intero beh non è male ragazzi se considerate che si trova molto facilmente se saliamo poi al piano superiore di questa insenatura trovate addirittura una stanza segreta che sembra la stanza di un castello e anche qua ragazzi potete trovare del loot all'interno addirittura un sacco di libri finora questa è una di quelle nel quale potete trovare più loot possibile qua c'è addirittura una doppia cesta dietro c'erano dei diamanti insomma potete trovare un sacco di cose e questa per adesso è una delle mie preferite passiamo a una nuova tipologia di struttura il palazzo di quercia abbandonato sembra quasi una pagoda giapponese ma non lo è ragazzi perché all'interno abbiamo proprio questa struttura qua che quando si entra chiaramente cosa c'è? tanti dungeon ci sono sempre tanti dungeon questi alcuni di questi sono quelli che abbiamo utilizzato nella vita in città 2 adesso non tutti però qualcuno si e trovo che questo sia molto interessante per il semplice fatto che è una cosa molto semplice non è troppo invasivo il loot che si trova secondo me questo è importante apriamo questa parentesi quando si mettono delle strutture su minecraft è bello ed è bene che tutto quello che si trovi all'interno non deve essere troppo cioè non è che se tu entri in un dungeon trovi 20 diamanti 15 di riaderite non avrebbe senso perché ci sono quelle mod che aggiungono cose del genere a me piace che ci siano degli spoiler qualche chest qualche diamantino e qualche cosina carina da trovare e in questi dungeon che vedremo adesso si troveranno principalmente delle cose molto semplici tornando al discorso della giungla prima parlavamo di un tempio della giungla che dovrebbe essere migliorato questa mod aggiunge proprio questa cosa qua un tempio della giungla leggermente migliorato qua non stiamo parlando di una struttura veramente gigante ma una struttura che rimane comunque base ma che viene comunque leggermente cambiata perché abbiamo anche il dietro da questa parte abbiamo anche questa zona qua ora spostiamoci con l'f3n e controlliamo che cosa c'è sotto ma quello che si può trovare più o meno dovrebbero essere le stesse cose se non che all'interno trovate magari un barrel in più una cestolina in più ma niente di troppo eccezionale qua ci dovrebbe essere sempre la chest con dei diamanti e dovrebbe esserci chiaramente esatto il barrel che avevo visto prima perché non avevo capito dov'ero e al piano di sopra si trova uno spawner anzi un doppio spawner uno di scheletri e uno di ranni carino raga però come vi dicevo un'altra volta sarebbe bello che ci fosse un mob custom cattivo per la jungle porca miseria è vero o no la prossima struttura è di nuovo nel deserto ormai l'abbiamo riempito di strutture il deserto ed è proprio un tempio vero e proprio un tempio migliorato a mio avviso nel quale abbiamo delle parti sui lati quindi quattro parti sui lati nel quale c'è questo è il tempio degli ask si chiama peraltro nel quale dicevo che sui lati ci sono loot in ogni zona vedete qua c'è diamante addirittura questo dovrebbe essere un normalissimo loot dei dungeon poi qua sopra si può entrare ovviamente si spacca adesso andiamo giù in f3n e via e qua ragazzi cosa c'è? assolutamente niente perché le uniche chest che potete trovare purtroppo sono quelli che ci sono sugli angoli può sponare anche una zona qua sotto che vi porta in una sorta di roba a stile il tempio del deserto però non sempre cioè a me è successo solo una volta su 15 strutture che ho visto e c'erano dei visitatori eh che stavano aspettando di andare in questo tempio chi era? oggi stiamo realizzando i sogni del marci del 2015-16 una nuova struttura nella giungla sì finalmente un albero della giungla gigante che ragazzi ovviamente ha degli spawner all'interno ma spawner di che cosa? che cosa sono queste ragazzi? guardate bene sono degli scheletri con un'armatura di pelle quindi niente di troppo esagerato ma che hanno quella armatura un pochettino in più che li protegge cosa troviamo all'interno? ovviamente del loot in questo caso ci sono dei diamanti e nient'altro ragazzi perché questo? perché rimaniamo sempre nella stessa identica direzione non troppo loot cose che sono carine ad affrontare che vi permettono di avere dei diamanti sì ma non troppo loot ragazzi perché sennò poi diventa davvero troppo esagerato apro una piccola parentesi su questo seed è incredibile ragazzi cioè guardate che bella questa zona qua io qua ci farei addirittura una casa una dark forest che spawna così non me la ricordo proprio e c'è addirittura una magione dietro e siamo praticamente allo spawn ok va bene questa struttura sembra quasi la casetta che abbiamo fatto all'interno della sfida della big vanilla di dove dovevamo fare i villaggi nei biomi e cosa si trova all'interno? beh in questa struttura qua niente di che se non dei ragnetti che danno tanto 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 fastidio e nient'altro qualche loot qua e là ma non c'è troppissima roba e come vi dicevo prima apprezzo questa cosa che non sia pieno di roba però apprezzo molto questa struttura anche se vi devo dire la verità non sono d'accordo sullo spawning questa struttura sarebbe dovuta sponare all'interno del bioma dei funghi sarebbe stata 100.000 volte più bella e più apprezzata perché quel bioma alla fine non ha niente di particolare non solo la giungla non solo il bioma dei funghi anche il bioma della palude non ha niente di particolare se non gli slime e vabbè la casettina delle streghe ma volete mettere una nuova struttura chiamata tempio della palude è anche molto bello beh ragazzi questa aggiunge proprio una nuova struttura che è una di quelle più remunerative se vogliamo parlare di materiali preziosi ovviamente spawner di streghe perché quello è immancabile tanto tanto loot in questo caso che si può trovare all'interno qua ragazzi è veramente pieno di antri di zone di chest di tantissime cose e forse è uno di quelli che sto apprezzando di più proprio a livello di complessità perché le streghe come ben sapete non sono così facili qua c'è addirittura un parkour da fare per raggiungere questa zona e anche questo è carino si è vero si può anche non fare però vediamo se è fattibile assolutamente si direi questa è fattibilissima c'era il ragno sopra forse questo salto qui no in realtà ho fatto anche questo salto qua in più alla fine del percorso si trova un'altra zona con due barrel con all'interno sempre il solito loot qualche diamante gunpowder insomma il loot che potete trovare o nei dungeon o nei tempi del deserto siamo quasi alla fine del video purtroppo ragazzi sono cose carine in questo episodio ma vi posso raccontare che c'è una nuova struttura all'interno della taiga e si chiama castello delle streghe cosa si trova all'interno di questo castello delle streghe possiamo bene immaginarlo ragazzi ovviamente tanti libri degli incantesimi e delle teste di libri degli incantesimi prima considerate che ho trovato una chest dove all'interno c'era sharpness 5 e protection 4 o il contro no protection si protection 4 e sharpness 5 ed è una roba incredibile e chiaramente è pienissimo è pienissimo di streghe ragazzi proprio come se non ci fosse un domani ve lo faccio vedere anche in spectator giusto per mostrarvi un pochettino la zona eccoci qua al piano di sotto c'è anche una zona dove ci sono un sacco di cose sembrano tipo le teste delle zone dei tizi che sono uccisi proprio dalla strega carina anche questa raga carinissima ultima ma non per importanza nuova struttura nella dark forest la torre z cosa si trova all'interno intanto da fuori non mi fa volare ragazzi non mi piace tantissimo però è una nuova struttura che possiamo andare a vedere e sarebbe sicuramente carina da andare ad avere su minecraft tantissimo cibo considerate che prima prendendole così le ebay lo guardate con world edit ci sono tipo tre stacchi interi interi di ebay ed è veramente una roba fuori di testa e questo dungeon qui l'avevamo affrontato proprio nella vita in città ragazzi cosa si trova all'interno una marea di spawner veramente troppi spawner non finiscono mai e tante chest questo addirittura un ancient home questo sarebbe da aprire veramente una parentesi sui tomi che potrebbe essere carina anche per la vanilla e per tutto quello che ne concerne minecraft in generale comunque fateci sapere sotto nei commenti quali sono state le vostre preferite non vi dico la mia sono curioso però di sapere la vostra ciao